In casa ogni giorno hai tante cose da fare. Ti sembra di avere tutto sotto controllo? Pensi di stare nel posto più sicuro al mondo? Fermati a riflettere. Non è così. La casa è il luogo in cui avviene il maggior numero di infortuni. Anche molto grave. Fretta, abitudine, gesti quotidiani. Spesso sono un motivo di distrazione. La sicurezza è importante per chi si prende cura ogni giorno della casa e della famiglia. Se hai tra i 18 e i 65 anni e ti occupi a tempo pieno e gratuitamente della casa, hai l'obbligo di assicurarti con il. Puoi farlo utilizzando il bollettino postale oppure online su inail.it. L'assicurazione costa meno di 13 euro l'anno. E se hai un reddito basso, basta una semplice autocertificazione e paga lo Stato. Per rinnovarla, hai tempo fino al 31 gennaio. Assicurati con Inail. Pensa a te. Non sei indistruttibile.